Ciao a tutti, spero altrimenti di essere a fuoco e nulla, ho provato a realizzare questa sorta di make up per Halloween e come al solito sono iniziatissimo il video ma va bene, quindi nulla, spero che il tutorial vi lascia e vi lascio a video, un bacio, ciao! Ciao a tutti! 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 Ho terminato, spero tanto che vi sia piaciuto e non è tanto difficile e non sono la bestima di fare queste cose ma ci ho provato e l'importante è quello e quindi nulla, un bacio, buon Halloween e basta! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!